Benvenuti su questo canale dedicato a chi vuole restare informato su temi cruciali come giornalismo, attualità, politica e malaffare. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di dibattito civile dove commentiamo e reagiamo agli eventi più rilevanti del momento. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Nella puntata di oggi vediamo un video con Pier Camillo Davigo. Quando venne arrestato Mario Chiesa, il segretario del suo partito, Bettino Craxi, disse che si tratta di un isolato marivuolo e in 50 anni nessun esponente politico del mio partito in questa città è mai stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione. Quattro mesi dopo, in Parlamento, diceva se il sistema di finanziamento irregolare dei partiti politici deve essere riguardato solo dal punto di vista criminale, allora tutto il sistema è criminale. Quindi evidentemente non era un isolato marivuolo, anzi con quella infelice frase probabilmente spinse Chiesa a collaborare. La seconda cosa è che Enrico Cuccia, presidente di Mediobanca, all'epoca la principale banca d'affare italiana, che non aveva mai detto neanche buongiorno ai giornalisti, sentito come persona informata sui fatti dalla procura di Ravenna per l'ipotesi di falsità contabili della Ferruzzi finanziaria, Ferfini in sigla, alla richiesta dei cronisti che lo aspettavano fuori e che gli chiesero è vero che i bilanci della Ferruzzi sono falsi? Lui, appunto presidente della principale banca d'affare italiana, disse io non ho mai visto uno che non lo fosse, ma non della Ferruzzi, in generale. E infatti dalle indagini è emerso che i principali gruppi industriali del paese pagavano i principali partiti di questo paese ovviamente con fondi neri, quindi con bilanci falsi. Allora poteva essere l'occasione per far sì che per esempio le imprese facessero emergere il nero che pure avevano nei bilanci, poteva essere l'occasione per contrastare la conseguente e parallela evasione fiscale, poteva essere l'occasione per disciplinare il funzionamento dei partiti politici, io trovo che sia assolutamente opportuno che lo Stato dia denaro ai partiti politici, ma che debba controllare come questi li spendono, perché se è denaro dei contribuenti non si può spenderlo come si vuole. Una volta un esponente politico dice che sono soldi nostri, facciamo quello che vogliamo, no, sono soldi dei contribuenti, non sono soldi tuoi, questo fa la differenza. E invece tutto questo è finito. La domanda è, secondo lei tra i tanti fattori che possono aver contribuito in questi anni al fallimento di questa occasione, qual è il principale che lei potrebbe descriverci? Perché questa invece che un'occasione per cambiare davvero le cose in Italia si è trasformata poi in un'occasione mancata? Perché appunto ci fu un tentativo di restaurazione. Si pensa sempre che sia cambiato completamente il quadro politico, in parte è vero, i partiti politici sono cambiati, hanno cambiato sigle, ma molte persone che c'erano prima ci sono anche dopo. Magari sono in secondo piano, non tutti, perché in Italia si può scrivere tranquillamente sul proprio curriculum che uno è stato condannato per corruzione e che non succede niente. va bene lo stesso, anzi può essere un titolo di merito, se ha mantenuto il silenzio. Faccio prima però a raccontare un episodio che mi capitò nel 1996 e che chiarisce il mio pensiero sul punto. Il Consiglio Superiore della Magistratura aveva organizzato un convegno di studi sull'ordinamento giudiziario italiano e francese a confronto. Eravamo 65 magistrati italiani e 35 francesi. Io non ero tra i relatori, ero un partecipante. Però il consigliere Zagrebeschi, che era all'epoca componente del Consiglio Superiore, mi chiamò al tavolo di presidenza per spiegare ai francesi cosa era successo in Italia tra il 92 e il 96. Allora io feci un sommario riassunto delle indagini, spiegai che erano state iscritte nel registro di notizie di reato oltre 4200 persone, tra cui 4 ex Presidenti del Consiglio dei Ministri, 12 Ministri, 130 tra deputati e senatori e un numero elevatissimo di pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio, oltre a moltissimi imprenditori. Dopodiché spiegai che per effetto di quello che era emesso dalle indagini nelle elezioni del 94 erano scomparsi 5 partiti. Uno era quello di maggioranza relativa, la democrazia cristiana, e degli altri 4, 3 avevano più di 100 anni, se contiamo il Partito Liberale che aveva una precedente organizzazione che non si chiamava così ma era lo stesso. Quindi un sommovimento politico apparentemente importantissimo. E conclusi questa mia rapida rassegna dicendo, dopodiché sapete, noi organi preposti alla repressione penale, magistratura forze di polizia, svolgiamo rispetto alla devianza criminale la funzione tipica che svolgono in natura i predatori, miglioriamo la specie predata, abbiamo preso le zebbre lente e sono quelle veloci, o se preferite abbiamo creato i ceppi resistenti agli antibiotici. Zagrebesky mi fece un cicchetto terrificante, diceva c'è bisogno di dire ai francesi che abbiamo creato i ceppi resistenti agli antibiotici? Io gli ho detto poi c'è bisogno di dirglielo per evitare che capiti anche a loro. Perché è vero che i pazienti ci sono stati dimessi mentre la terapia era ancora in corso, con varie leggi fatte apposta, ma che abolivano i reati che abolivano le prove, di tutto di più. Però è anche vero che in ogni epoca storica e in ogni Stato la criminalità non è mai stata totalmente soppressa, non c'è nessun posto al mondo dove non c'è nessun criminale. Allora gli organi preposti alla repressione fanno esattamente questo, prendono quelli meno bravi e restano quelli più bravi o più fortunati, ma sono anche più bravi, perché con l'esperienza è brava. Questo video è una rivisitazione migliorata e restaurata allo scopo di esercitare una nostra recensione critica e di commento.